Musica Abbiamo qui con noi il consigliere Corrado Cartoni, consigliere del Consiglio Superiore della Magistratura, appena eletto, capo della corrente di magistratura indipendente e la dottoressa Fiammetta Palmieri, anche lei al Consiglio Superiore della Magistratura. Benvenuti, stasera che cosa vi è piaciuto di più della presentazione del libro del vostro collega Angelo Martinelli? Mi è piaciuto molto il libro e consiglio sicuramente di leggerlo perché è un libro sulle relazioni umane e sulle relazioni umane autentiche. Quindi è un invito alla ricerca per tutti noi a cercare le relazioni umane autentiche perché sono quelle che poi fanno la differenza nella nostra vita e che rendono la nostra vita veramente meritevole di essere vissuta. Consigliere Cartoni, il tema di questo concorso letterario è l'identità spirituale e sociogiuridica degli uomini di valore. Che significa essere un magistrato di valore? Fare con il proprio lavoro con senso del dovere, punto. Non c'è altro da dire. Il magistrato di valore è uno che fa il proprio lavoro con senso del dovere. E i magistrati che scrivono? Che cosa ne pensa del suo collega Angelo Martinelli, così prolifico? Addirittura il suo ottavo romanzo. Beato lui che ha tempo per scrivere anche i libri. No, è una battuta chiaramente. No, è sicuramente meritevole anche perché dimostra come i magistrati non parlano solo di diritto ma conoscono anche altri aspetti della vita e trattano anche altri aspetti della vita, come diceva la dottoressa Fiammette Palneri, anche i sentimenti dell'uomo. Quindi un magistrato calato nel mondo. Dove va a finire questo libro? Ci porta un po' dove viene fatta la premiazione del nostro concorso letterario, vero? Sì, a Pontremoli. Quindi insomma narra luoghi che conosciamo, quindi si fa apprezzare ancora di più questo libro perché un po' tutti noi che siamo andati spesso ai premio Biancarella, rileggendo il libro ricordiamo tante serate belle, tanti ambienti piacevoli che abbiamo vissuto. Quindi è un libro che si fa apprezzare anche per la descrizione degli ambienti che sono in grado di apprezzare sia chi c'è stato in quei luoghi ma anche chi non c'è stato riuscirà sicuramente ad immedesimarsi in quei luoghi. Quindi invitiamo tutti a raggiungerci a Pontremoli durante il premio Bancarella. Un'ultima domanda, consigliere, il suo particolare obiettivo per questa sua nuova consigliatura che durerà un bel po' e che la verrà impegnata per molti anni, ha un particolare obiettivo? L'obiettivo è svolgere un servizio per i colleghi, ecco io ho sempre avuto questa impostazione di servizio, cioè fare una consigliatura di servizio, non di potere, non politica ma di esclusivo servizio, andando in conto a quelle che sono le esigenze concrete dei colleghi e della giurisdizione. Questo è l'obiettivo, che penso che in questa consigliatura questo obiettivo possa essere raggiunto. Per tanti motivi, adesso qui non c'è tempo per dire, ma penso che si possa raggiungere questo obiettivo. E quindi, come dice il dottor Massimo Angeli nel libro del dottor Angelo Martinelli, fare servizio ai colleghi è un servizio ai cittadini, vero? Sicuramente, c'è una perfetta coincidenza fra le due cose, non c'è dubbio. Buona consigliatura e buona lettura, grazie.